Ciao amici del Club delle Ricette! Scopriamo insieme come preparare il golosissimo salame alle fragole. Per prima cosa laviamo per bene le fragole, togliamo le foglioline e facciamole a pezzettini. Mettiamole in un pentolino, aggiungiamo lo zucchero e facciamo cuocere a fuoco dolce, fino a quando non risulteranno tenere ma non troppo. Grazie a tutti! Una volta pronte, facciamole raffreddare per bene. In una ciotola aggiungiamo il mascarpone, le fragole che nel frattempo si saranno raffreddate e mescoliamo per bene. Aggiungiamo le gocce di cioccolato bianco e mescoliamo. Sbricioliamo grossolanamente i biscotti secchi, mettiamoli nella ciotola e incorporiamoli per bene alla crema di mascarpone e fragole. Versiamo il composto ottenuto su di un foglio di carta da forno, arrotoliamo, leghiamo con uno spago e facciamo riposare in congelatore per almeno 4 ore. Togliamo dal congelatore 20 minuti prima di servire ed ecco che il salame alle fragole sarà pronto per essere gustato. Per tante altre ricette ricordati di scaricare la nostra app.